questa volta non un calendario normale ma un calendario per peco la tecnica è facilissima, velocissima, vi mostro subito come fare per andare a realizzare il nostro calendario magnetico la prima cosa che dobbiamo andare a creare è la base ovviamente a seconda di quanto volete farlo grande potete modificare le dimensioni della base io vado a far clic sul pulsante forme e seleziono questo che è un rettangolo con i bordi arrotondati ora lo metto di colore bianco e a questo punto vado a mettere una dimensione di circa 25 cm per 19 di altezza a questo punto vado a inserire i vari elementi ma il primo elemento che vado a inserire è il testo quindi vado a far clic sul pulsante testo e come font vado a sceglierne uno di Cricut che si chiama banana shake ed eccolo qua, lo vado ad aggiungere anche tra i preferiti e lo inserisco ora questo è il mio testo quindi vado a modificare ovviamente la dimensione in base anche alla grafica che andrò a mettere diciamo che l'ideale è creare tutta questa grafica su un programma apposito come affiniti foto ma adesso vi realizzerò appunto una grafica ultra ultra semplice in modo che se non avete altri programmi di grafica potete andare a lavorare direttamente qua su Cricut Design Space scrivo in questo caso giorno e vado a mettere per esempio il colore rosso ora a questo punto vado a duplicarlo quindi faccio clic qua sul pulsante duplica e vado a metterlo un pochino più in basso e scrivo data poi in un secondo momento andremo a vedere poi dove posizionarlo in maniera perfetta vado a cambiare di nuovo il colore, questa volta metto un colore blu ora seleziono nuovamente data, duplico anche questo e vado a scrivere mese anche in questo caso vado a cambiare il colore, lo metto per esempio giallo ora una volta che vado a posizionare in maniera molto indicativa le nostre scritte, il nostro testo vado di nuovo a far clic qua sul pulsante forme e scelgo un rettangolo con i bordi arrotondati ora sblocco qua le proporzioni facendo clic sul lucchetto e vado a mettere un rettangolino qua sotto secondo di quanto vorrei andare a fare grandi poi tutti gli elementi sovrapponibili dovete fare più o meno grande questo rettangolo lo vado a mettere per esempio di colore giallo, quindi alternati i colori che state utilizzando faccio un rettangolo indicativamente di questa dimensione e poi faccio clic sul pulsante offset questa volta non andrò a mettere il solito offset esterno ma andrò a metterne uno interno, quindi faccio una cosa di questo genere allora anche qua a seconda di quanto volete fare grande il bordo potete fare un offset più o meno elevato a questo punto faccio clic sul pulsante applica poi seleziono l'offset, seleziono il rettangolo e vado a far clic qua su questo pulsantino che si chiama scomponi e serve appunto per suddividermi tutti gli elementi e andarmi a creare una sorta di cornicetta quindi cancello questo, cancello anche quello giallo e come potete notare mi rimane questa cornicetta ora duplico e vado a posizionarlo qui qui sotto, ovviamente tutto andrà allineato alla perfezione mettiamolo per esempio di colore rosso duplichiamo nuovamente e andiamo a metterlo questa volta di colore blu qui quindi mettiamolo blu inferiore deve esserci lo stesso spazio in questo caso vado a spostare un po' più in alto il rettangolo sposto anche un po' più in alto il rettangolo rosso e chiaramente andrò a spostare anche il mese un pochino più in alto in modo che sia tutto omogeneo poi queste sono modifiche che vanno fatte poi un pochino all'ultimo per appunto andare a realizzare una grafica omogenea ed equilibrata a questo punto vado a selezionare tutto ad eccezione del rettangolo principale e come vi dicevo lo sposto sposto il blocco diciamo in modo da ottenere lo stesso spazio tra la margine superiore e inferiore andiamo a salvare prima il progetto vi consiglio di salvarlo diverse volte mentre state progettando perché state lavorando su un cloud per qualsiasi motivo il collegamento internet potrebbe essere instabile e per cui potreste perdere il lavoro quindi chiamiamolo calendario educativo e salviamo a questo punto andiamo ad aggiungere altri elementi per esempio possiamo andare ad aggiungere un orologio che poi andremo però a ritagliare con materiali diversi cioè una parte andremo a stamparla mentre un'altra andremo a ritagliarla soprattutto le lancette dell'orologio quindi andiamo a far clic qua sul pulsante immagini e scriviamo appunto orologio ora andiamo a vedere un orologio che possa andare bene ma come potete notare questi sono singolo livello quindi dobbiamo andare qua nella barra laterale di sinistra espandiamo il menu livelli e facciamo clic su multi che vuol dire multilivello sostanzialmente e possiamo andare a prendere un orologio semplice come questo che appunto ha più livelli il che significa che possiamo andarlo a creare in un certo modo quindi che cosa facciamo? beh prima di tutto andiamo a ridimensionarlo leggermente anche qua tutto facciamo così così vedete meglio anche qua vedete voi qual è la grandezza cui volete fare l'orologio così 10 centimetri comunque un diametro di 10 centimetri è abbastanza fatelo uscire solo leggermente in questo modo potete come sempre andare a cambiare i colori questo qua in realtà sarà un foro quindi potete metterlo tranquillamente di colore bianco lo sfondo potreste metterlo per esempio giallo per rendere un pochino più omogenea la vostra grafica e anche questo potreste riprendere il blu che è quello appunto che avete utilizzato nella vostra cornicetta queste lancettine qui andranno a parte quindi cosa vi consiglio di fare? prima di tutto separate temporaneamente il gruppo poi selezionate le lancette e allora fate clic così con il pulsante di destra fate taglio quindi tagliate appunto temporaneamente qua rifate il gruppo e a questo punto fate di nuovo incolla sempre clic con il pulsante di destra fate appunto incolla e qua possiamo anche chiamarlo volendo gruppo orologio così non ci sbagliate chiamiamolo gruppo lancette così è più semplice e queste andremo appunto a tagliarle con un altro materiale per esempio un cartoncino abbastanza spesso mentre quest'altra parte andremo a stamparla e il foro invece andremo a tagliarlo anche il foro volendo potreste metterlo comunque fuori ora a questo punto cosa dobbiamo fare? dunque prima di tutto duplichiamo una di queste scritte facciamo clic sul pulsante duplica eccola qua allora rimettiamo a posto solo la casella di test ecco qui e posizioniamola qua sotto che cosa vado a fare in questo caso? beh prima di tutto ingrandisco un po' la mia scritta a questo punto andiamo a fare clic qua e scriviamo per esempio il nome di un bambino per esempio Fabio e facciamo clic qui sul pulsante separa in questo modo vedete che abbiamo ottenuto un livello per ogni singola lettera quindi andiamo a selezionare ogni lettera e andiamo a riprendere i colori che stiamo utilizzando quindi la F per esempio la facciamo rossa la A la facciamo gialla la B la facciamo blu chiaramente ci servono altri colori quindi andiamo a cercare altri colori che potrebbero piacerci ecco insomma adesso sto mettendo dei colori a caso quindi adesso riseleziono tutto faccio raggruppo in modo da poter andare a ingrandire la mia scritta in qualsiasi momento a questo punto possiamo andare a cercare per esempio una foto e metterla in tanti modi diversi possiamo metterla all'interno di un cerchio, di un cuore insomma scegliete voi come preferite io adesso metto un cerchio perché è la cosa più semplice ma va benissimo anche un cuore ora andiamo a prendere facendo clic qua dal pulsante carica anzi ho già caricato un'immagine quindi faccio clic su questa foto e faccio poi clic su aggiungi alla tela questa foto ovviamente è molto grande eccolo qua quindi è anche in alta risoluzione quindi sicuramente impiegherà un pochino cioè sicuramente la presa più grande ma comunque rallenterà leggermente il programma ora a questo punto andiamo a vedere qua se io vado a posizionare il cerchio qua sopra andiamo a vedere più o meno come potrebbe essere la foto del bambino in questo caso quindi seleziono il cerchio, seleziono la foto e vado a far clic sul pulsante che abbiamo utilizzato prima scomponi quindi andiamo a cancellare questo andiamo a cancellare anche l'altra parte ed ecco che c'è rimasto il nostro cerchietto ripeto potete fare la stessa cosa anche per esempio con un cuore magari diventa anche un pochino più carino quindi a questo punto possiamo andare a aggiungere allora prima di tutto ricordiamoci come sempre di salvare chiaramente in questo caso mi dà l'alert vedete che io non posso più condividere questo progetto se c'è questa foto all'interno in ogni caso posso comunque condividervi il progetto se avete bisogno e toglierò la foto che tanto credo che non vi occorra questa foto qua allora adesso andiamo a prendere qui una cornicetta e di nuovo andiamo a duplicarla andiamo a posizionarla qua sblocchiamo nuovamente le proporzioni facendo clic su questo lucchetto e andiamo a fare questa volta una cornicetta un pochino più quadrata poi chiaramente dovremmo andare a vedere come spostare tutti i vari elementi come posizionarli, spostarli eccetera eccetera comunque andiamo a metterla indicativamente qua centriamo anche un pochino più l'immagine andiamo a di nuovo duplicare questa casella di test e qua scriviamo esempio tempo mettiamola blu ecco qua ma poi come sempre potete metterla del colore che desiderate adesso io li posiziono più o meno così perché prima andrò a prendere un'immagine quindi vado a fare clic qua sul pulsante immagini e scrivo due cose uno, dinosauro andiamo a vedere eccolo qua per esempio questo è un dinosauro carinissimo facciamo clic su aggiungi alla tela e allora io seleziono questa scritta e faccio canch quindi ho cancellato praticamente questo livello utilizzando il pulsante canch della tastiera ma potete utilizzare anche questo pulsantino qui elimina anche qua volendo potreste far uscire leggermente il dinosauro oppure lasciarlo qui sotto quindi in basso scegliete voi anche in questo caso come e cosa vi piace di più prima vi ho detto scriviamo dinosauro e poi un'altra cosa e non vi ho detto qual è l'altra cosa ve lo dico adesso scriviamo per esempio freccia andiamo a cercare una freccia che possa essere carina ma anche nello stesso momento semplice per esempio questa e facciamo clic su aggiungi alla tela ora a questo punto ruotiamo come ben sapete per ruotare un oggetto è sufficiente che vi posizionate in un angolo diciamo delle immagini vedete che appare questa icona e poi ruotate per fare una rotazione perfetta a 90 gradi dovete sempre premere il tasto shift della tastiera come praticamente accade con tutti i programmi di grafica ora andiamo a mettere sempre un altro colore rosso blu verde scegliete voi insomma qual è il colore che in questo caso vi piace di più vi consiglio questa parte della freccia di metterla in corrispondenza qua quindi andiamo a allargare fare una cosa di questo genere e andiamo a metterla appunto in corrispondenza della i così sembra che ci sia una certa continuità allora a questo punto teoricamente se avessimo un programma di grafica potremmo fare uno sfondo di un certo tipo elementi decorativi eccetera eccetera adesso vado a mettere degli elementi decorativi molto molto semplici quindi vado a far clicca qua sul pulsante forme inserisco un cerchio piccolino e lo vado a mettere uno di colore rosso ora lo vado a spostare lo metto per esempio qui possiamo lasciarlo rosso possiamo anche qua metterlo verde decidete voi comunque l'importante è che riprendiate più o meno sempre gli stessi colori lo duplichiamo e mettiamo un altro qui per esempio adesso sto mettendo dei punti comunque abbastanza a caso e duplichiamo nuovamente mettiamo qua il rosso possiamo mettere anche un rosso un pochino più forte però in questo caso devo riprendere lo stesso che abbiamo utilizzato e poi appunto duplichiamo nuovamente e mettiamo magari il colore blu lo mettiamo qui mettiamo il blu e poi si potete metterne magari anche altri due quindi magari ne mettete tipo uno qua duplichiamo nuovamente e andiamo a metterne dove era qua andiamo a metterne uno qui sotto mettiamolo per esempio di colore rosso ed ecco qua giusto per dargli un pochino di colore un pochino più di vivacità la nostra grafica a questo punto cosa dobbiamo fare allora prima di tutto dobbiamo andare a inserire tutti i giorni della settimana tutti i numeri e tutti i mesi chiaramente adesso non vi faccio un tutorial lunghissimo ve ne metto solo un paio giusto per farvi capire come procedere allora questo rettangolo è 6,35 per 3 però all'interno ovviamente è più piccolo quindi vado di nuovo a far clic sul pulsante forme seleziono un rettangolo vado a metterlo per esempio di colore bianco poi potete mettere anche uno sfondo colorato se preferite e vado a cercare di capire più o meno qual è la dimensione che dovrò andare a fare a questo punto vado sempre a far clic sul pulsante testo e scrivo per esempio lunedì chiaramente dovrò scrivere lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, eccetera eccetera io adesso scrivo solo lunedì appunto per non farvi un tutorial super lungo andiamo a metterlo allora io adesso lo metto di colore blu potete anche mettere tutti i colori come ho fatto io in precedenza quindi adesso selezioniamo entrambi i livelli quindi il livello lunedì, il livello rettangolo e andiamo a far clic sul pulsante unisci i livelli quindi in pratica diventerà così che il bambino potrà andare a attaccare il giorno della settimana a seconda appunto di che giorno è se volete farlo un po' più carino e questo vale per tutto vi consiglio di mettere un offset adesso vi faccio vedere anche come si fa vado a far clic qua su duplica e questa volta metto una data quindi faccio dividi i livelli e qua posto di lunedì scrivo per esempio 25 tanto per mettere appunto un numero a caso se volessi mettere un offset devo chiaramente non metto un offset 0,6 perché come potete notare è una cosa gigantesca metto per esempio 0,01 e vedete che è proprio minimo oppure potete diciamo che fino a 3 massimo 5 potete farlo tranquillamente in questo caso dovete selezionare tutto beh prima di tutto dobbiamo andare a centrare allora raggruppiamo un attimo l'offset poi andiamo a centrarlo in base cioè diciamo rispetto al rettangolo quindi facciamo allinea centro-orizzontalmente una volta centrato facciamo clic sul pulsante unisci livelli ed ecco qual è il risultato finale con un offset a 0,3 vedete che è un pochino più carino rispetto a come abbiamo scritto appunto lunedì ora salviamo nuovamente e andiamo a mettere anche il mese quindi in questo caso duplichiamo lunedì facciamo clic qua sul pulsante duplica e andiamo a mettere il mese facciamo di nuovo clic qua sul pulsante dividi i livelli e come mese andiamo a mettere per esempio dicembre ma dobbiamo andare a mettere in realtà tutti i mesi dell'anno quindi offset mettiamo sempre uno 0,03 e qua controlliamo che sia diciamo centrato rispetto al nostro rettangolo ma come allora per vedere la centratura fate un attimo clic qua su taglio base così riuscite a capire meglio come potete notare dicembre è un pochino sproporzionato rispetto al nostro rettangolo quindi dovrò andare a diminuire la dimensione adesso vabbè gli avevo già fatto l'offset quindi l'offset dovrò andarlo a rifare ecco qua così mettiamolo anche di un altro colore per esempio rosso e andiamo a rifare l'offset ovviamente l'offset ogni volta che è ridimensionato dovete andarlo a rifare quindi selezioniamo tutto e facciamo unisci i livelli andiamo a posizionarlo qui a questo punto possiamo solo più anzi dobbiamo solo più mettere il tempo meteorologico anche in questo caso dovete mettere diverse varianti quindi andiamo a fare clic sul pulsante immagini scriviamo per esempio sole andiamo a vedere se c'è un sole carino che possiamo andare a mettere possiamo anche prendere direttamente questo e poi scriviamo pioggia anche qua attendiamo un attimo prendiamo sempre delle icone molto semplici perché stiamo parlando di bambini facciamo clic su aggiungia la tela chiaramente adesso questi sono enormi andiamo a prendere un altro rettangolo quindi facciamo clic qua sempre un rettangolo con i bordi arrotondati andiamo a metterlo di colore bianco sblocchiamo le proporzioni perché questo non è proprio quadrato però insomma è un rettangolo un pochino più cicciotto diciamo così rispetto all'altro anche qua facciamo un pochino più piccolo del rettangolo interno potete farlo anche della stessa identica misura se preferite andiamo a posizionare solo il sole vedete che l'ho trascinato per mandarla in primo piano quindi a un livello superiore ora facciamo così possiamo anche duplicare il rettangolo direttamente da qua comunque facciamo unisci livelli la stessa cosa andremo a fare poi anche con la pioggia ovviamente ci vorranno anche in questo caso le nuvole insomma oppure il sole con le nuvole ci vorranno un po' tutte le cose come sempre adesso appunto ripeto questo è solo un esempio ho fatto dividi i livelli volevo fare duplica e poi fare dividi i livelli a questo punto faccio appunto dividi i livelli vado a cancellare il sole quindi questo lo vado a togliere e vado a inserire di nuovo nel mio rettangolino la mia pioggerellina quindi una volta che abbiamo unito i livelli anche di questo ovviamente tutti i giorni da settimana tutte le date, tutti i mesi andrete a metterlo all'esterno della vostra grafica ora qua praticamente c'è questo andiamo a nasconderlo temporaneamente e teoricamente dovremmo semplicemente fare così cioè fare unisci i livelli sarebbe pronto quello che vi consiglio è di andare a mettere però l'offset a tutte le scritte quindi appunto le scritte ma anche le immagini anche qua andiamo a mettere per esempio beh prima di tutto rimettiamo 0,03 in modo che ci sia un offset omogeneo chiaramente anche qua lunedì ma facciamolo adesso semplicemente alle scritte che sono esterne quindi facciamo applica facciamolo anche all'orologio facciamolo alla freccia a questa scritta qui insomma praticamente a tutti gli elementi perché ovviamente è un po' più bello da vedere con l'offset potete farlo anche ovviamente con le cornici quindi tutte queste cornicette qua mettete un offset in pratica il risultato è come lo vedete adesso è chiaro che quando fate unisci i livelli questa sorta di bordino nero va via semplicemente per il fatto che questo è il bordino di taglio e ovviamente non ci sarà più una volta che potete anche metterlo qua chiaramente se proprio andiamo a vedere potete metterlo proprio a tutto 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 quello che trovate in area stampabile ecco diciamo così questo sto facendo un po' veloce ripeto per non farvi il tutorial lunghissimo giusto comunque per farvi capire il senso ecco a questo punto andiamo a fare così quindi facciamo l'operazione che vi ho spiegato prima unisci i livelli vedete che ho ottenuto un unico livello stampabile qua possiamo mettere chiamiamolo proprio calendario così sappiamo che è questo a questo punto il cerchietto ovviamente deve essere visibile andiamo a metterlo qui soprattutto facciamo disponi in primo piano e a questo punto selezioniamo di nuovo tutto facciamo aggrega e queste appunto andremo poi le lancette a tagliarle con due cartoncini di colore diverso quindi non dovete collegarle sostanzialmente guardate anche solo quando mettete le lancette che poi sia prima di tutto mettiamo un attimo di spawn in primo piano che sia abbastanza semplice andare a posizionarle andremo a mettere un fermacampione quindi controllate la larghezza più che la lunghezza la larghezza delle lancette per verificare se entra fermacampione altrimenti le dovrete allargare leggermente andiamo adesso a vedere se abbiamo fatto tutto correttamente facciamo clic sul pulsante crea il progetto è concepito per un foglio A3 e quindi anche una stampante A3 se non avete una stampante A3 o un foglio di questa dimensione non vi preoccupate perché potete comunque andare a ridimensionare ecco adesso questa è l'anteprima eccola qua vedete che non mi dà in questo caso la possibilità di mettere A4 semplicemente perché la dimensione è più elevata anche solo di questo quindi della base diciamo perché tutte le varie scritte le varie date eccetera eccetera le potremmo poi comunque tagliare a parte per cui se non avete appunto un foglio A3 o una stampante A3 è sufficiente che al posto di 19 cm mettiate 16,50 e quindi potete così andarlo a stampare su foglio A4 queste ovviamente sono le due lancettine che andremo a tagliare con un cartoncino o altro materiale idoneo potete usare anche un chipboard per esempio ma non troppo spesso quindi andiamo a vedere adesso qual è il risultato che otteniamo con questo tipo di calendario eccoci qua sono con la mia maker è quasi pronta per il taglio l'impostazione che dovete andare a inserire è magnetic sheet quindi foglio magnetico e questo appunto è proprio il foglio magnetico che io sono andata a stampare quindi la grafica che abbiamo fatto insieme è chiaro che i giorni la data il mese il tempo eccetera eccetera dovranno essere fuori dall'area di progettazione nel momento in cui è andato a unire i livelli ma vi ricordo che comunque vi condividerò il progetto in modo che possiate personalizzarlo come preferite a questo punto vi faccio vedere un attimo prima di tutto qual è il materiale che sono andata a utilizzare che è questo in pratica sono i fogli magnetici di silhouette e sono appunto quelli stampabili in alcuni casi potremmo andare a utilizzare dei fogli magnetici non stampabili per andare a inserire nel retro magari in corrispondenza del fermacampione dei fogli che siano solo magnetici in modo che non ci sia nessun area che non tocca la superficie magnetizzabile quindi a questo punto vi consiglio di prendere un tappetino viola e andiamo a vedere poi come esegue il taglio la nostra Maker a questo punto carico il tappetino nella mia macchina come potete notare ho aggiunto la lama nera che è la lama che vi consiglio per andare a eseguire il taglio di questi fogli magnetici e poi vado a caricare il tappetino come sempre la Maker esegue la misurazione del materiale del tappetino per verificare che sia tutto corretto una volta verificato che sia tutto corretto potete semplicemente avviare la macchina andando a far clic qua su questa frecciolina la prima cosa che fa la macchina è andare a fare la scansione in corrispondenza dei cresciti di registro per vedere il punto esatto in cui si trova l'immagine e per poi andarla a ritagliare una volta terminato il taglio potete andare a togliere semplicemente così il foglio magnetico e andare a vedere il risultato che abbiamo ottenuto quindi andiamo a togliere tutte queste parti ed eccolo qua guardate quanto è carino a questo punto andiamo a vedere come procedere eccole qua queste sono le parti stampate e tagliate io ho fatto alcuni giorni della settimana ma ovviamente ancora non tutti poi il tempo meteorologico le date eccetera eccetera allora una cosa importante è che io ho utilizzato questa carta magnetica che è bellissima per certe cose però non ha soprattutto per quanto riguarda l'effetto della stampa vedete che comunque riesce a incorporare benissimo l'inchiostro l'inchiostro si asciuga subito però per quanto riguarda l'effetto magnetico non è fortissimo potete eventualmente rinforzarlo con dei fogli magnetici non stampabili per appunto aumentare un po' l'effetto magnetico appunto allora la prima cosa che andremo a fare è quella di inserire le due lancettine quindi prendete prima di tutto dei fermacampioni questi qua tutti colorati li trovate facilmente anche su Amazon prendo per esempio il colore rosso visto che manca qua e vado semplicemente inserire il fermacampione con molta attenzione all'interno dei fori che ho fatto appunto le lancette dico con attenzione perché dipende dal cartoncino che state utilizzando perché alcuni magari possono essere un po' troppo delicati e rischio ovviamente che si rompano una volta inserite le lancettine andate poi nel foro qui che abbiamo fatto andate a metterlo così poi chiaramente come ben sapete è un fermacampione quindi dovete semplicemente aprire le due alettine qua dietro una cosa importante che dovrete fare è premere molto molto bene in modo che sia più attaccato possibile altrimenti come vi dicevo l'effetto magnetico potrebbe non essere perfetto eventualmente potete anche tagliarne un pezzettino o aggiungere come vi dicevo dei fogli magnetici non stampabili qua ovviamente il bambino deve avere la possibilità di muovere le lancettine come preferisce e qua avrà tutti i vari tempi nel senso tempo meteorologico da inserire qua il giorno ovviamente le varie date il mese eccetera eccetera ed ecco qua guardate il risultato secondo me è carinissimo soprattutto è importante diciamo educativo ecco per il bambino perché può andare a cambiare i giorni quindi può riconoscere anche come si scrivono i giorni della settimana come si scrivono i vari numeri come si legge un orologio eventualmente potete andare a aggiungere dei numeri come si legge il mese per cui appunto è un prodotto semplice da fare educativo che secondo me è un'ottima idea regalo per anche per Natale ma in realtà a qualsiasi momento dell'anno vi faccio vedere anche dei fogli magnetici che sono molto forti sono proprio particolari ma le avete visti comunque in un tutorial in cui vi ho mostrato come realizzare dei mini magneti di Halloween che si illuminano al buio in cui sono andata a utilizzare questi fogli che hanno una potenza magnetica decisamente elevata e possono essere aggiunti eventualmente ai fogli silhouette quindi fogli stampabili silhouette quindi potete stampare un'altra sagoma dietro che potete attaccare così anche il fermo campione diciamo non è più visibile ma eventualmente anche ai vari rettangolini per potenziare l'effetto comunque magnetico quindi la tenuta sul vostro calendario spero che il tutorial vi sia stato utile come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione che potete iscrivervi al canale youtube mycricut al sito internet www.mycricut.it alla piattaforma corsi mycricut.it slash corsicricut e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it slash negozio e infine vi ricordo che ci sono dei corsi se volete avviare un'attività che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio andate su Patreon al profilo Stefania del Principe www.mycricut.it 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 Grazie a tutti.